Ben ritrovati in seconda parte di Angoli, siamo in compagnia di Violetta Bedendo, consigliere delegato per la cultura del comune di Brunate e di Maura Selmo, responsabile del premio Alda Merini. Buonasera. Buonasera. Allora, l'ho anticipato appunto, c'è un premio, è un premio dedicato a forse la più grande poetessa del Novecento italiano, Alda Merini, ed è organizzato dalla biblioteca e dal comune di Brunate. Partiamo da qua, è giunta la quinta edizione. Diamo qualche informazione anche pratica su chi può partecipare, quali sono le scadenze per inviare gli elaborati. Certo, dunque siamo giunti alla quinta edizione e i partecipanti hanno tempo, diciamo, fino al 31 di maggio per partecipare. Le sezioni sono le due più, diciamo, quelle più gettonate sono la poesia inedita e la poesia edita. Naturalmente per la poesia inedita possono partecipare con, fino a tre poesie possono, ogni candidato può partecipare con tre poesie, invece per la poesia edita con un volume edito dopo il 2009. Deve essere stato... Poi abbiamo una sezione invece legata proprio al territorio, proprio perché noi vogliamo che questo ricada proprio anche sul territorio, questo premio, ed è il... sono i racconti del territorio, devono... questi possono partecipare, chiunque può partecipare e sempre con la stessa scadenza. Poi abbiamo invece una sezione particolare sui saggi e le tesi, in cui su Alda Merini o perlomeno sulla poesia del Novecento che comprenda comunque Alda Merini, che citi Alda Merini. E poi abbiamo una sezione, diciamo, la più moderna, direi, che è quella che è la poesia al tempo dei social, con delle videopoesie che vengono presentate, insomma. Anche questa, sempre la stessa scadenza per tutti. Poi quest'anno però abbiamo anche una sezione particolare, che è una sezione speciale, che abbiamo chiamato premio speciale Pencio Slavikov, proprio per ricordare i 150 anni della nascita di Pencio Slavikov, che è poeta bulgaro che è morto a Brunate, era in esilio a Brunate ed è morto a Brunate. E quindi noi vogliamo ricordare questo legame, vero Violetta, con questo poeta che anche lui, come Alda Merini, era un candidato al Nobel per la letteratura. Purtroppo nessuno dei due, poi uno è morto e l'altro pure, quindi non sono poi stati premiati. Poi comunque abbiamo anche una sezione per i giovani, per i giovani, cioè tutti i ragazzi fino ai 18 anni alla scadenza del premio, possono partecipare gratuitamente in questo caso al premio. Allora, quindi un legame con Brunate lo abbiamo già individuato nella figura di questo poeta bulgaro, peraltro questo è il 150esimo anniversario dalla nascita. Dalla nascita, sì. Il poeta è nato naturalmente in Bulgaria, era in esilio volontario a Brunate dove ha soggiornato in uno degli hotel proprio di fronte alla biblioteca comunale e lì è morto nel giugno del 1912. Ed è stato uno dei più grandi poeti bulgari e non a caso a partire dalla prossima settimana a Sofia, in Bulgaria, ci saranno le manifestazioni in ricordo di questo grande poeta per la Bulgaria. Le manifestazioni coinvolgeranno la popolazione e coinvolgeranno i sindaci sia della città dove è nato, sia della città di Sofia, sia della città di Lipsia dove ha studiato. E siamo coinvolti anche come Brunate in quanto l'amministrazione comunale è stata invitata a partecipare proprio in virtù di questa logica di gemellaggio al momento poetico che abbiamo creato tra il poeta bulgaro, quindi la Bulgaria rappresentata da poeta Pencio Slavikov e Brunate rappresentata da Alda Merini. Ricordo perché abbiamo un premio letterario dedicato ad Alda Merini a Brunate, nel paese di Brunate, perché a Brunate vivevano i nonni paterni di Alda Merini. Quindi i nonni e Alda Merini nella sua autobiografia cita proprio Como e Brunate perché a Brunate era nata la nonna ed era una contadina brunatese che aveva sposato un conte di Como, conte che era stato diseredato perché desiderava sposare la contadina e quindi era venuto a vivere a Brunate dove peraltro ha fondato un'associazione, l'associazione del mutuo soccorso, che tuttora esiste ed opera sul territorio. Quindi questo è il motivo. C'è un forte legame diciamo tra Alda Merini e il territorio, quindi questo per noi è importante. Abbiamo fatto bene a ricordarlo. Chi è che giudicherà le poesie? Come è strutturata la giuria? Ecco, la giuria è stata, diciamo, si è formata cercando persone che conoscessero proprio Alda Merini perché in effetti nella giuria noi troviamo ad esempio Luisella Veroli che è la biografa di Alda Merini che ha conosciuto, che ha vissuto tanto con Alda Merini, ha condiviso molto quindi ed è la sua biografa ufficiale. Ha scritto infatti anche con lei proprio questa biografia. Poi abbiamo Lucia Bellaspiga che è una giornalista di Avvenire, anche lei amica e conoscente di Alda Merini. Poi abbiamo la dottoressa Chiara Milani che è la responsabile scientifica della biblioteca di Como quindi il legame col territorio. Era anche lei una grande stimatrice di Alda Merini quindi è sempre stata legata anche lei. Poi abbiamo come presidente Pietro Berra che è giornalista qui di Como, anche lui che ha conosciuto molto Alda Merini. Poi abbiamo un editore che è Michelangelo Camelliti. Quindi abbiamo una scelta di persone. Tra parentesi queste persone alcune ci sono state suggerite proprio dalle figlie della Merini perché conoscevano bene la mamma ed erano veramente amiche della mamma e quindi secondo loro volevano dare un'impronta alla giuria proprio legata al personaggio. E in effetti direi che mi sembra che ci siano riuscite. Poi ci terrei a dire che abbiamo anche nel comitato d'onore Ambrogio Borsane che è effettivamente il curatore dell'opera Omnia della Merini. Quindi insomma abbiamo cercato delle personalità che potessero un po' giudicare e proprio come l'avrebbe fatto probabilmente Alda Merini anche se Alda Merini era molto speciale e non ce ne sono molti come lei. In effetti leggere la sua biografia è divertentissimo perché era un personaggio da scoprire. Ci credo. Infatti mi permetto di aggiungere che le cerimonie di premiazione e quest'anno abbiamo fissato la cerimonia di premiazione a settembre è in genere l'11 settembre, la seconda domenica di settembre in generale è sempre ogni anno e sono dei momenti molto piacevoli, molto divertenti perché al di là della premiazione in sé che sicuramente è gratificante per i partecipanti è sempre l'occasione per ricordare gli aneddoti, storielle legati ad Alda Merini ed è un po' quello che vogliamo fare con il premio cioè il ricordo, tenere vivo il ricordo tenere vivo il ricordo e tenere vivo il ricordo legato al territorio e questo è un po' quello che ci proponiamo e cerchiamo di ottenere. Giustamente C'è anche però un altro premio speciale che vi hanno assegnato Certo, certo Il titolo, cioè la dicitura corretta è tipo la vita o una poesia? Più bella della poesia è stata la mia vita Ecco E' bella questa citazione, è una citazione della Merini quindi non l'abbiamo inventata comunque Niente, viene assegnato a chi nella vita ha testimoniato e testimonia ancora, diciamo poeticamente, i valori etici e culturali L'anno scorso questo premio peraltro è stato assegnato a un'eccellenza Certo, un'eccellenza, sì sì Ferrero è stato Ferrero che è stato con noi in effetti Sì, è stata una giornata magnifica In novembre, sì perché il premio ha questa l'11 settembre la premiazione ma poi il premio speciale più bello della poesia è stata la mia vita sarà in novembre Ernesto Ferrero l'anno scorso l'ha vinto ed è stato un personaggio che abbiamo scoperto alquanto umano, vero è di una sensibilità incredibile e ha creato un ambiente tra di noi veramente molto molto piacevole, informale anche però abbiamo veramente trovato un personaggio eccezionale Ecco, ricordare che si chiama Ernesto Ferrero è il direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino e ha creato proprio un'atmosfera straordinaria perché ha parlato della lettura, della capacità eravamo tra l'altro all'interno di una biblioteca quindi si prestava in modo perfetto il fatto di avere una conversazione, una discussione collegata ai temi del valore della lettura e il valore della scrittura anche per i bambini e come far crescere e sviluppare l'infanzia in modo sano avvicinandola chiaramente ai temi a temi così quanto la lettura impegnata anche quindi io ricordo un po' di discussioni in questo senso che sono state molto molto interessanti Sì, sì, veramente Peraltro è già, come dire, quinta edizione è già un po' tempo di bilanci Nelle edizioni precedenti diamo anche un'idea appunto della percezione della poesia nel 2000, dal 2000 a 2010 al 2016 Che tipo di poesie ricevete? Un po' si capisce addirittura una sezione dedicata alla poesia social Si trovano nuove forme in questi anni? Beh, innanzitutto noi vediamo soltanto, noi ascoltiamo soltanto e vediamo solo le poesie che vincono perché è la giuria che comunque saprebbe rispondere in modo più completo perché noi soltanto ascoltiamo le poesie dei tre vincitori o più perché il premio noi diamo un premio al primo classificato ma non necessariamente rimane il premio potrebbe esserci un secondo e un terzo questo lo decidiamo a seconda di quello che la giuria ci fornisce Mi permetto di aggiungere anche questo La poesia è una forma di comunicazione ed un linguaggio universale Quello che oggi può scrivere una persona in Italia o può provare e trasmetterlo attraverso la poesia può essere la stessa cosa che può scrivere una persona in Sud America e trasmetterla attraverso la poesia Questi anni rappresentano un momento molto importante in cui c'è la necessità di avere un linguaggio comune anche tra personalità diverse, tra persone che arrivano da paesi diversi infatti non a caso un premio internazionale lo scorso anno hanno partecipato poesie da più di sette paesi quest'anno dalla Bulgaria ci aspettiamo tra i 70 e i 100 partecipanti quindi comunque è la poesia in sé che è un linguaggio universale poi le tematiche della poesia possono variare sono quelle che trasmettono passione è una forma, è un linguaggio che attraverso la lirica esprimi un pensiero cadenzato e ritmato attraverso la lirica in qualche modo e quindi tendenzialmente esprimi passione la passione può essere o l'amore o il grande dispiacere o la tua storia di vita gli argomenti più vari allora io vi ringrazio moltissimo per essere state con noi questa sera ricordate le spettatori il sito dove trovate ovviamente puntualmente in ogni sezione riassunte tutte le modalità per partecipare eventualmente al premio o anche solo appunto per ripercorrere un po' la storia di queste cinque edizioni il sito è www.premioaldamerini.org grazie ancora grazie a lei come sempre l'appuntamento con Angoli torna domani alle 19 adesso vi lascio a tutte le notizie di ETG prima pagina e poi a seguire Target a domani grazie a tutti grazie a tutti